Non intendo celebrare unioni civili tra omosessuali, volentieri cedo il compito a tutti i consiglieri. Così Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, ha risposto ad una mozione presentata in Consiglio Comunale, entrando così nel pieno del dibattito quotidiano sul DDL Cirinna, le unioni civili e la Step Child Adoption. È forse uno dei primi sindaci in Italia che prende questa posizione. Il mio criterio di famiglia è uno soltanto, quindi sono in linea con chi considera la famiglia tradizionale, composta da un uomo o una donna, senza entrare nel merito di tutto quello che poi può prevedere questo decreto sulle adozioni. Non ho detto che sono contro qualcosa, io sono per la famiglia tradizionale. Ed esprimere anche sulla base di un coinvolgimento, senza voler discriminare gli altri, il proprio pensiero credo che sia quanto di più naturale si possa fare. All'interno della mia amministrazione comunale, della mia giunta, ci sono opinioni ovviamente libere e diverse, per cui non è che nel comune di Cassiano Fiorentino non si potranno celebrare unioni civili se sarà tutto questo supportato da un decreto e ci saranno delle norme attuative per questo. Credo che sia legittimo esprimere la propria opinione. Io l'ho fatto, l'ho fatto convintamente, senza voler urtare qualcuno o gli altri. Grazie.